Primo tempo X Factor ragazzi di Ranieri 3 a 0 X Factor De Rosa De Rosa De Rosa buona partita 3 a 0 State giocando bene cosa si deve fare secondo te? Eh dobbiamo cercare di mantenere questo risultato Cercare di fare qualche cosa in più E non subire Va benissimo grazie Bucca Lupo Andiamo da Fabracini No quando secondo 4-1 Fabrocini 3 a 0 per gli avversari State giocando ma non riuscite a trovare la vita del gol Cosa si deve fare? Dobbiamo un po' giocare non da individuali Più che a passaggio Facile meglio la valla Va benissimo grazie Bucca Lupo per il secondo tempo Ciao ragazzi siamo qui al termine della partita Come si affronta i ragazzi di Ranieri contro X Factor X Factor che vince la sua prima partita Grazie a una super prestazione di Caccavale Tra l'altro arrivati in ritardo Caccavale è buonissima partita Grandissimo gol Mi cercato per quel palo da centrocampo colpito Avete giocato veramente bene Il secondo tempo avete tenuto molto bene Cosa si poteva fare di più? Anche se penso che oggi è andata bene così Oggi finalmente è arrivata la prima vittoria Dopo tante sconfitte Anche una vittoria negata alla fine Proprio la partita Siamo perdendo Però devo fare i complimenti alla mia squadra Che appena sono arrivati in ritardo Già stavamo in vantaggio Comunque oggi abbiamo giocato molto bene E... E' male che è venuta questa vittoria Senti a chi lo dobbiamo dedicare? Come prestazione? Alla mia famiglia e alla mia ragazza Grazie a qualcuno c'è ragazzi Devo giocare con loro? Grazie a tutti